ehi ragazzi qui piale bentornati su imperator rom bentornati con il regno di armenia dunque allora ho appena la verità adesso adesso appena letto un commento di voglio dire aurelio aureliano non mi ricordo devi perdonarmi dove appunto mi diceva di utilizzare invoke devotio che effettivamente l'avevo vista questo pratente mi da mi diminuisce la monthly war exhaustion quindi non so se era questo che intendevi per diminuire l'aggressive expansion mi devi perdonare sinceramente non non vedo com'è con la war exhaustion possa aiutarmi con l'aggressive expansion o poi magari non lo so adesso sto dicendo cazzate non lo so mi devi perdonare davvero credimi dunque l'aggressive expansion però sta scendendo stiamo a 38 81 adesso che non è male dai non è malaccio vorrei però iniziare ad fabbricare un bel claim per quanto riguarda pari address dove sei a ce l'abbiamo già ottimo 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 molto molto bene va bene allora finiamo di costruire sti marketplace che succede yes yes please dammi soldi grazie ok allora marketplace costruiti stavamo cercando qui a rasht di insomma abbiamo fondato la nostra bella colonia stiamo cercando di rendere le popolazioni del posto dei posti insomma svariate locazioni qua armene però 0 40 oddio non è proprio il massimo della vita certo è che quel meno 27 42 di arrest non aiuta affatto e qui come posso migliorarlo a meno che non gli metto un arch treatment aspetta però ma come lo miglioro il arrest aiuto happy pops pops ok perché le popolazioni non sono felici va bene chi siete da dove venite un fiorino caduzione ok caduzione aspetta me aspetta pleiale è un attimino colonia occupation ma se io per dire no per dire per dire vi dessi qualche diritto qui e diritto lì no ma sai cosa mi abbassa di un di un botto la stabilità oddio no no magari più avanti potremmo provare a dare loro il diritto di matrimonio così da aumentare un poco la loro felicità perché effettivamente mi è bassa è caspita mi è molto molto bassa sono così tristi però perché scusami ho capito però dimmi il perché meno 30 per cento e va bene ma caduzione eccolo qui colonia occupation meno 6 per cento e oddio è bassa perché è bassa appunto a non vediamo la pausa intanto cerchiamo di avanzare un poco cittadini del ponto pigliamoci uno di tirannia vala tipo no vediamo un attimino tirani ecco meno 0 0 1 con uno di tirannia per dire anzi con 4 e 24 0.01 non cambia nulla non è cambiato nulla purtroppo anche avendo più tirannia non mi è cambiato nulla eh oddio sì no non è cambiato nulla sicuramente ci vuole una tirannia più elevata sicuramente cosa vuole il punto no questa è liberia ah military access no 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 non mi interessa allora 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 14 danari sono i nostri introiti 151 le casse voi siete leati di qualcuno no 3 36 1096 madonna quanti abitanti che abbiamo eh sapete cosa secondo me è il momento di attaccare colcis qui a rasht però per dire no abbiamo qualche armeno in più no sembrerebbe di no tipo qua cadusian cadusian median eh oddio median e cadusian eh la stabilità invece com'è che la si faceva? mmm più 0 15 più 0 15 allora 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 facciamo così aumentiamo la stabilità e va bene e va bene cadusian la cultura cadusian proteggi dalle torture mi darebbe un più 6 la felicità diritto di matrimoni più 6 qui eh questa è la migliore ecco perché un 10 di stabilità ai 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 eh facciamo così diamo loro il diritto di eredità eh eredità insomma facciamo così e vediamo un attimino se con questo miglioriamo un po' con la situazione per dire però che andiamo a scendere con la stabilità a 20 eh mamma mia mamma mia ma io posso fare qualcosa per dire no da qui dal governo mmmm no 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 non posso dalle leggi mmmm no non mi sembra oh mamma speriamo di non spero davvero di non come si dice di non pentirmene diamo loro il diritto eh stability drop eh sì scendiamo a 21,81 va bene population happiness meno 28 eh che caspita però cadusion mi sale a un bel 15 quindi 15 oddio è peggio di prima eh prima era se non ero 60 adesso è 0,40 oh mamma cadusion persian arminian che palle che scocciatura ragazzi miei che scocciatura fai vedere un attimino magari dove va sai no no 38 addirittura sta scendendo ah ma sai perché perché l'arrest sta aumentando a livelli inverosimili ecco perché perché l'arrest sta aumentando a livelli inverosimili hmm ma se io allora almeno persiano cadusion persiano per dire no ma se io spostassi a cazvin da rasht uno non dico chissà quanti è uno però un persiano via e via e va bene poi 9 su 8 adesso ne tolgo un altro ecur no zanjan zanjan ok da dove sei rasht quindi cadusion sempre ovviamente va bene allora adesso qui per dire a rasht abbiamo una maggioranza di cadusion ancora come slave va bene sti tribesmen sinceramente potrebbero anche andarsene da un'altra parte a meno che non stiamo no potrei però pensare di spostare tutti sti freemen migliana cadusion bilca scusa perdonatemi un attimino ragazzi allora oh che poi freemen potremmo potremmo ecco appunto potremmo magari costruire un un foro questo ci darebbe più 6 per cento felicità dei freemen che non sarebbe male però alla fine chi è meno diciamo chi è più triste sono i cittadini quindi in quel caso lì dovremmo costruire una corte della legge eh eh sì potremmo potremmo provare sai cento ventinove in cento trentacinque giorni proviamo dai proviamo un corte dalla legge e poi vediamo un attimino insomma se eh cambierà ecco fra cento venti giorni se qualcosina cambia eh intanto colcis io direi sai cosa dichiariamo guerra il punto non entrerebbe i nostri aliati perché no war balance meno 79 oddio colcis è così potente scusami non è possibile ma no dai dichiariamo guerra vai yes conferma ok ok allora io solleverei per il momento eh le truppe principali armene quindi le truppe del re ovvero orontes terzo e andrei immediatamente qui a trapezos e poi vedremo qual è la mossa del del nemico intanto che succede qui chi sei tu un ricercatore non ci voglio credere dai diciamo così mettiamolo così togliamo la pausa non vedo nessun nemico per il momento intanto fatemi un attimino bere un goccetto di caffè per chi se lo stesse domandando uno dice un goccetto di caffè in che senso la tazzina no ragazzi ho il tazzone quello tipico americano eh ormai mi sono abituato a bere quello puria di insomma dopo anni e anni che vivo qui in canada mi sono anch'io abituato a bere il mega tazzone del 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 di caffè un po' come come tutti del resto qua no tutti bevono il mega tazzone qui e io non posso che essere da meno ecco non posso ok qui pigliamo intanto sti 3.500 molto bene ci hanno fatto prendere un sacco di atrito sti ste testine chiamola così ok perfetto adesso oh abbiamo finito intanto la costruzione rushed vediamo com'è oddio beh oddio non è che abbia fatto chissà quale grandi quale grandi cose magari ci vuole un pochino di tempo sai magari ci vuole un poco di tempo però per farlo aumentare probabile probabile eeeh uh uh culture median decisione vediamo un po' potremmo provare a fondare una colonia anche qui però mmm oddio no no semplicemente mi piglio la la stabilità ok vai quindi da meno 26 e 64 population happiness si sale a meno 20 e 64 che è tanto ragazzi è è tanta tanta roba è una bella differenza è una grossa differenza quindi buono ci sta ci sta e come tanto se la war exhaustion per dire dovesse salire mi fa diminuire la aggressive expansion forse si lo sai solleviamo tutte le truppe allora voi venite non lo so andate qui a derbent voi 2000 voi altre 2000 invece venite qui a ciabala mentre voi 2000 venite qui e voi mi andate qua grazie via e iniziamo a fare assedi su assedi iniziamo a migliorare il nostro world score che al momento meno 14 non va bene dobbiamo migliorare assolutamente dobbiamo assolutamente migliorare oh interessante questo assolutamente mi piace assai assolutamente colchion che sinceramente non so neanche dove sia ah tipo ah eccolo qui qui la religione al momento mi è bezzoroastro la maggior parte però sai cosa se mi no 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 dai paghiamo 15 15 si paghiamo 15 15 paghiamo 15 15 punti politici e 63 danari però la religione of armenian slave ma quindi solo uno scusami allora qual è il ma facciamo questo dai e speriamo di non aver fatto una cazzata vogliamo fare non non shall hide anche per diminuire insomma la loro popolazione da avere meno problemi poi e pigliarci tra l'altro più ma si dai pigliamoci quanti più soldi possibile adesso sti 18 vanno qui a pazisi e via intanto fermi tutti 2007 stiamo attenti perché qua sai non vorrei fare cazzate voi venite qui a ciabala e altre 2000 intanto stanno andando ottimo la stabilità aumenta grazie perfetto population happiness meno 17 per cento tanta roba ragazzi tanta 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 roba voi venite qua cerchiamo di perfetto voi 2000 venite qui non posso perché ci sono i forti e va bene giusto mi sta lo accetto però voi potreste andare qui ma c'è il forte anche qui vabbè dai iniziamo ad andare iniziamo ad assaltare quel forte ecco dai iniziamo a migliorare già la nostra situazione ora esosto ogni tanto mi sale a 180 population happiness meno 0 90 e che palle e che palle che palle che palle quindi anche qui insomma ci conviene finire questa guerra quanto prima tanto uno scorro di 40 mi piace assai tu dove stai andando sai cosa potremmo provare anzi fatemi un attimino vedere no su for peace io vorrei questo accetteresti accetterebbero sai cosa mi sta anche bene vediamo un attimino se però accetterebbero no certo che no diventare un tributario o uno stato cliente mi costerebbe tra l'altro una botta tremenda di aggressive expansion qua mi piglio uno 0 97 che alla fine non è neanche male dai sai cosa sono contento così dai va bene finiamola qua adesso sti 18 mi andate qui nella capitale sti 2000 dove capita capita praticamente qui vorrei mantenere i nostri eserciti sollevati un poco di più per aumentare dove sei eccolo qui la military experience qua praticamente la si ottiene con più i soldati sono sollevati ecco e quindi va bene così ehm noble birth il comandante di una delle nostre più prestigiosi armate a quanto pare richiede di essere riconosciuto come un nobile arbinas wow perdere provventi di legittimità insomma ma si dai vabbè tanto legittimità quanto ne facciamo eh la perdiamo oppure perdere 5 di stabilità e vabbè da proviamo vediamo un attimino vediamo un attimino come va dai tanto 4 e 42 adesso tocca costruire però eh tocca costruire allora qui eh no grazie 3 su 5 e va bene e ci sta ok eh pontic ok ok e tra l'altro uiaiaiaiai ok eh sai cosa io direi allora vediamo un attimino qua un grande tempio assolutamente per forza di cose e trapezios sono costretto a buttare giù questo forte e fare un non posso perché io la madonna 259 ammazza oh caspita però 259 aspettiamo un attimino di avere un po' più di soldini tanto il punto scusami ma è in guerra oh ah ma non siamo neanche più alleati del punto ah vabbè ok all'armenia allora guadagneremo uno di tirannia a dia bene perde 40 di opinione con noi arminia nobo in vaga shapat diventa uno schiavo scusa io non so manco dove sto vaga shapat praticamente qui vabbè ok quello che vuoi che ti dica no paghiamolo non vuole cioè basta perdere stabilità basta anche basta se no così è troppo è madonna però è buono comunque sia il tempio che riusciamo almeno a costruirlo qui ad risaion e va bene così dai poi non appena avremo i soldi vedremo anche di costruirlo qui a trapizone ok tanti soldatini se non erro adesso potrei buttarli giù giusto vediamo un attimino quanto 2 10 wow ok ok disbandon levis yes quindi andiamo a 68 e 96 se non erro ce ne servono almeno cos'era 80 forse se non erro si 80 va bene va bene va bene va bene va bene va bene intanto scusa ma scusa ma questi territori non sono non so perché mi ricordavo fossero i nostri no no non credo no aumentiamo la lealtà si va bene liberi adesso liberia e in guerra con chi con la rivolta iberica andate meno un secondo ragazzi il punto la verità non mi dispiacerebbe però rifarmeli alleati e diciamo così vediamo un attimino accetterebbero dai offriamo loro l'alleanza e va bene perché potrebbero essere sai degli alleati cuscinetto sì nel caso dovessero chiamarmi in questa guerra entrerei anche senza problemi la verità lo ammetto adesso rush to come siamo messi con 0 42 certo è che però scusa la religione no mismatch in pantheon diidi religione almeno 20 per cento no noi abbiamo questo caldi che diary of war no perché altrimenti potrei anche pensare di magari forse devo toglierlo scusa eh per dire 0 astro cos'è che potremmo mettere a 0 astro sono veramente pochi sono questi tre allora morale delle armate il mantenimento delle legioni oddio ehm reinforcement speed più 5 per cento ah vogliamo fare Aura Mazda proviamo Aura Mazda dai ok adesso oh vedi vedi è andato via perfetto 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 ottimo molto 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 bene molto molto bene e quello l'abbiamo risolto quindi tecnicamente dovremmo riuscire ad convertirli oh e tra l'altro barbarians dove oh sono arrivati i barbari qui nelle montagne nelle montagne del ui quindi bisogna stare attenti eh perché potrebbero attaccarci all'interno dei nostri territori mi sono appena accorto che non abbiamo neanche un templio qua non abbiamo neanche un tempio ogni volta dico templio perché temple dall'inglese a mmm 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 scusa potrei 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 provare ad aumentare di uno di uno slot la nostra costruzione così da poter costruire un tempio migliorare la lealtà della provincia oltre che ovviamente migliorare la la conversione della provincia yes sai cosa facciamolo dai ho fatto quello giusto sì e alle volte vediamo un attimino eh fermi tutti sono arrivati i barbari mmm non fare niente per il momento so ammazzalo su 5.000 barbari vabbè solleviamo le nostre leve che sono eccole qui 18.000 e andiamo immediatamente a spaccargli le corna questi qua va ui caspita hanno abbassato la civiltà di di 11 ammazzalo andate a dish allora eh devo andare ancora di lui Zoroaster per la lealtà e il pop conversion speed del più 10 97% che è tanta roba che è tanta tanta roba intanto intanto ottimo questa è una grande notizia Orontes Poliperchid è morto e quindi eccolo qui Archames Orontid ottimo cancelliere mettiamo non lo so uno bravo 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 7 vabbè ok cerchiamo di distruggere sti barbari va che sinceramente hanno anche rotto le palline abbiamo un 50% di possibilità di aumentare la stabilità yes perfetto oh mannaggia i tra tesorontis è morto è stato avvelenato porca miseria mannaggia 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 abbiamo qualcun altro dalla nostra famiglia no no purtroppo no mettiamo questo i bimbi come sono sei anni due e quattro o comunque il nostro re ancora niente figlie che palle adesso pigliamo sti 4500 dai togliamoceli di mezzo e che palle mi scè caduta di nuovo mannaggia stati velocissimi seguiamoli semplicemente distruggiamoli disintegriamoli dove vanno no preferisco pagare eccoli qua sta a vedere che cade è che non lo sapevo figurati ecco qui adesso immediatamente il tempio 259 manca veramente poco ma vabbè dai questo però lo vedremo nel prossimo episodio no 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 teniamoli sollevati un altro poco in modo tale da prenderci anche un minimo di punti un minimo di punti military experience e ragazzi miei io come sempre vi ringrazio immensamente tanto per essere stati anche quest'oggi qui con me come sempre spero e mi auguro il video di questo oggi sia stato di vostro gradimento e come sempre un fortissimo abbraccio ciao ragazzi